Buonasera a tutti, chiudiamo ora in bellezza, permettetemi di dire questo, questo dodicesimo festival del giallo. Sono orgoglioso perché sono riuscito insieme agli amici tramite Roberto Guarino, qui alla mia sinistra, che ha più volte intervistato Carlo Nizzi. Claudio Nizzi, te l'ho ribattezzato, sono talmente emozionato che puoi aver ribattezzato. Claudio Nizzi nel mondo degli appassionati del fumetto è facilmente abbinabile a Tex, sceneggiatore per tantissimi anni, delle avventure che credo molti di noi ci hanno accompagnato nella nostra crescita. Il mito di questo eroe che, come ho detto prima durante l'intervista, tutti vorremmo avere come un amico, perché ce ne sarebbe molto bisogno oggi di amici come questi. Però io non vi voglio perdere, portarvi ad altro tempo, io ringrazio Roberto che si è prestato, lui ha già intervistato Nizzi su varie pubblicazioni e oggi condurrà questo incontro dove Nizzi, sì l'uomo di Tex, ma ha anche una interessante partecipazione nel mondo del poliziesco e non solo, come lui vi dirà, anche Tex ha avuto, grazie alla sua idea, delle pennellate di giallo che quindi portano nel mondo dell'Ouest e delle avventure di Tex un mondo che noi troviamo anche in altri personaggi del mondo poliziesco. Quindi io ringrazio ancora entrambi di essere qui con noi e quindi passo la parola a Roberto per condurre l'incontro. Rimarrò qui per eventualmente fare qualche provocazione anch'io. Grazie e a voi. Due presentazioni per Claudio Nizzi, per chi non lo conoscesse. È il decano degli sceneggiatori italiani di fumetti, forse il più grande sceneggiatore di fumetti viventi e quindi è vero, insomma. Passiamo poi a parlare di Tex, ma visto che si parla di giallo, incominciamo a parlare un po' di giallo. E di Tex. E poi anche di Tex. Di giallo in Tex. Vuoi parlare subito del giallo in Tex? No, dai. Arriviamo dopo. Prima di arrivare a Tex, tu hai fatto molte cose. Se magari puoi dire brevemente dal Vittorioso al giornalino. Ma dille tu che le dici meglio, dai. Vabbè. Nizzi ha esordito nel fumetto sul Vittorioso. Ha scritto qualche serie per il Vittorioso quando il Vittorioso era una rivista cattolica di fumetti. Nizzi è giovane e quindi quando ha iniziato a scrivere lui per il Vittorioso, il Vittorioso era ormai di sgoccioli. Quindi ha potuto lavorare pochissimo per il Vittorioso e è passato poi a riviste che all'epoca facevano racconti, novella e cose di questo genere. Riviste femminili. Femminili. Però le donne sono sempre state delle grandi lettrici e anche che all'epoca leggevano. E quindi lui ha scritto per queste riviste. E poi è passato al giornalino dove in breve è diventato il più importante sceneggiatore. Ha sceneggiato tantissime storie libere che fra un altro abbiamo pubblicato noi l'anno scorso un volume molto interessante, se ha qualcuno interessato lo può cercare, che si intitola 53 storie brevi che raccoglie tutte le storie di inizi senza personaggio fisso, con tutti i disegnatori migliori. E poi è passato a serie molto importanti di vario genere, avventuroso, western, forse la sua serie più famosa è le Riuma, comiche, ad esempio Piccolo Dente, di cui sta uscendo adesso la riproposta integrale, e poi anche Gialli. Al giallo ci è arrivato tardi perché scrivendo per il giornalino non si poteva che una rivista... Ho scritto due serie gialle per il giornalino, naturalmente erano gialli rivolte ai ragazzi quindi niente le tre S, sangue, soldi e sesso, ecco, quindi bisognava aggostare l'ingegno perché senza quella roba lì il giallo di solito non viene fuori. La prima è questa fra l'altro, che il Tenente Marlo, se vuoi dire qualcosa di questa serie... No, perché se no non arriviamo più a tex. Vuoi arrivare subito a tex, vabbè. Comunque questa è una serie che ha disegnato Sergio Zaniboni, è una serie poliziesca con un personaggio molto umano, un poliziotto americano che ricorda forse un po' McGray, anche se il meccanismo giallo è quello del procedural, quello di Ed McBain, il procedural... Sì, e quindi ci sono, c'è tutta, sono serie, è una serie dove ci sono, dove si vede le indagini a tutto tondo e ci sono i vari personaggi impegnati a fare le indagini. Siccome si trattava di storie brevi i personaggi vengono approfonditi episodio dopo episodio e quindi si riesce anche a vedere la vita privata di questo Marlo... Ci stai dilungando? Ma parliamo di tex, allora parliamo di tex. Come sei arrivato a tex, dai. Ma sì, no, perché l'argomento per esaurirlo non basterà il tempo, quindi è meglio partire subito, anche perché parliamo di tex e del giallo. Innanzitutto vorrei fare, siccome immagino che qui ci siano dei lettori di tex, se no non sareste qua, vorrei inquadrare un po' la cosa per capire che cosa è tex, perché se no non ci capiamo fino in fondo. Allora, tex ha attraversato quattro fasi. Per i lettori sembra sempre uguale, ma non è vero. La prima fase è quella del creatore di tex, di Gianluigi Bonelli, che diceva tex sono io. L'ha fatto prepotente, lo ha fatto gradasso, lo ha fatto manesco, lo ha fatto simpatico però fondamentalmente. Gli ha messo accanto Kit Carson, facevano una coppia... Ecco, il modo di scrivere di Bonelli era molto molto particolare, faceva un dialogo creativo, facciamo stare la bistecca coperta da montagna di patatine, sono tutte quelle frasi che sono diventate anche noia. Lui costruiva proprio la frase in una maniera diversa dagli altri e questo caratterizzava molto il personaggio. tutto questo è stato perso in seguito. Prima fase, quindi, un western, diciamo, molto ripetitivo, perché Bonelli partiva sempre con o uno sceriffo o un militare o uno che aveva bisogno per affidargli una missione. Tex partiva con Carson, svolgeva la missione, in genere beccava uno dei... che apparteneva alla banda dei cattivi, lo menava per farlo parlare, dopodiché arrivava anche al cattivo capo. Questo si ripeteva spesso perché le tematiche dell'west sono poche. Furto di mandrie, attacco alle ferrovie, assalto in banca, sono 4, 5, o 6. Lui, per variare, giustamente, ogni tanto ci infilava una storia strana, quelle che io definisco strane, o vale a dire, che so, con popoli scomparsi dalla terra, gli antichi spagnoli, i maia, addirittura i vichinghi, addirittura un extraterrestre e poi Mephisto. Quindi lui, in questo modo, riusciva ad andare avanti la cosa, mantenendo però sempre una coerenza incredibile nella psicologia dei personaggi. Perfettamente riconoscibile e assolutamente empatici nei confronti del lettore. Seconda fase riguarda me. Bonelli a un certo punto è diventato vecchio, dopo 30 anni che scriveva texti, e Bonelli, giovane, cioè il figlio, Sergio, ha bisogno di qualcuno che lo sostituisca. Leggendo il giornalino, individua nelle storie mie un possibile sostituto del padre. Ci vediamo, mi fa fare una prova su Mr. No per due storie, per vedere se potevo passare dalle storie brevissime del giornalino alle storie lunghissime di texti. La prova è già riuscita e sono passato a texti. Allora, texti era un arnese molto molto delicato. Era praticamente quello che manteneva la casa editrice, esattamente come oggi. Nel frattempo c'è stato Dylan Dog che ha portato altri soldi alla Bonelli, ma oggi sta di nuovo calando. Lui si raccomandò a Sergio Bonelli che, no, mi sbaglio, seconda fase, i texti scritti da Sergio Bonelli, cioè dal figlio di Gianluigi, l'editore. Lui li scriveva in maniera diversa dal padre, nettamente diversa. Non sapeva fare il dialogo del padre, non sapeva fare i battibecchi fra Tex e Carson, quindi non metteva mai Tex e Carson, non li metteva raramente. Preferiva mettere Tex con Tiger Jack o col figlio o da solo. Insomma, lui evitava in tutti i modi di dover fare questi battibecchi perché non gli riuscivano. Qui devo vedere, sennò mi si incolla la lingua. Lui non lo faceva volentieri i texti, non lo scriveva volentieri. Lui aveva creato Zagor e Mr. No, che vivevano anche in quel momento lì, dovete abbandonarli per scrivere i texti, in quanto che non c'era in quel momento nessuno che potesse sostituire il padre. Io mi sono reso disponibile per loro solo nel 1980 perché prima avevo un impiego alla Fiat. Scrivevo fumetti nel tempo la sera, il sabato, la domenica, sacrificavo la famiglia, i figli, la moglie che è qua e me lo rimprovera sempre. Però Bonelli mi disse, mi raccomando, non fare il text come lo faccio io, fallo come lo fa mio padre. Io non avevo letto il text da ragazzo, quindi non lo conoscevo. Mi misi a leggere la serie dall'inizio. Da prima non mi piacevano le storie di Bonelli, mi sembravano mi sembravano troppo diluite, troppo lunghe. Preferivo quelle di Sergio. Poi dopo, strada facendo invece, ho capito che il text vero non era quello di Sergio ma quello del vecchio Bonelli. E allora io l'ho scritto come lo scriveva il vecchio Bonelli. E ci sono riuscito al punto che le prime storie uscite non firmate da me, perché questo fu un impegno che Sergio mi chiese, perché dice, guarda, il lettore è abituato alle proprie storie e Sergio non le firmava. È abituato al text by Bonelli e se vede un altro nome magari si disaffeziona. Lui era spaventatissimo a questa prospettiva. Allora io accettai di non firmarle pensando magari che sarei andato avanti sei mesi, un anno, due anni, invece andrei avanti cinque anni nell'anonimato. Finché mi scocciai e quando uscì il primo textone disse no, questo almeno lo firmo e da lì ho cominciato a firmarlo. Comunque io mi sono attenuto, e siamo alla terza fase, la mia, che io ho rispettato la psicologia di text, l'autoironia di text, perché il text non sembra ma è autoironico, la spacconaggine di text che ho però moderato, ho mantenuto text che menava ma un po' meno e soprattutto gli creavo un motivo per menare. Invece Bonelli bastava che entrambi in un saluto text qualcuno lo guardasse storto che lui subito partiva col cazzotto. Io quello non riuscivo a farlo. Così come non riuscivo ad accettare l'idea che text si trovava davanti ai venti avversari, diceva va bene dai, e li affrontava tutti insieme. Infatti c'è un famoso, c'è un titolo rimasto famoso e era venti contro uno, all'inizio. Quindi io avevo un temperamento, avevo no, perché lui è poveretto e morto, un temperamento diverso da quello di Bonelli, il quale nella vita era un omino piuttosto piccolo, però forzuto, che ha fatto anche il pugilatore, però di carattere molto forte e quindi in un certo senso aveva ragione lui a dire text sono io. Ovviamente il mio text risentiva del mio carattere, era un po' più moderato, però nell'insieme il lettore non si accorse del cambio di mano. Quarta fase è quella attuale, è quella di Mauro Boselli, che è non solo amico d'infanzia di Giorgio Bonelli, che è il figliastro di Ictex, non solo ha fatto il segretario a Gianluigi Bonelli quando era giovane, però non è capace di scrivere le storie come le scrive Gianluigi Bonelli. e ha fatto e sta facendo un text tutto su vuoi, ovvero sia con nessuna caratteristica particolare, per cui text è diventato uno qualsiasi che si chiama text, noi lo riconosciamo perché esce in un albo che sopra la scritta text. Qualcuno mi dice che text è come la Ferrari, anche se perde in continuazione i fan non l'abbandonano, è la verità. Text ha attraversato periodi di, per esempio, il periodo di stanchezza del vecchio Bonelli, quando era ormai, insomma, da quegli anni scriveva dei text abbastanza brutti, li avevano perdonati, sono continuati a leggerlo. Adesso escono delle storie pessime, ma insomma i lettori continuano a leggerle. Quindi vorrei che fosse chiara una cosa, text non è tutto uguale, ci sono queste quattro sezioni che differenziano quattro tipi di text. E questo per momento è una premessa che volevo fare. Per quanto riguarda invece il giallo, io nei primi text ho scritto delle storie gialle. Ce n'è uno che si intitola I misteri del lago ghiacciato, forse qualcuno se lo ricorderà, in cui c'è, diciamo così, un reato all'inizio e per tutti i tre albi text si trova accanto un uomo che si spaccia per un agente della Pinkerton. La storia va avanti con alterne vicende, con fatti che sorprendono eccetera, finché alla fine si scopre che il cattivo della storia era proprio questo qui. Però non lo si scopre fino alle ultimissime pagine dei tre albi. Ora quello era perfettamente un giallo e altri ne ho scritti. Nello scrivere questo text, cosa che non faceva Gianluigi Bonelli, in questo avevo l'appoggio del direttore della casa editrice che era Decio Canzio, persona molto poco vista, molto poco conosciuta dal grande pubblico perché era molto modesto, non gli piaceva apparire, si teneva in disparte, ma era veramente una colonna assoluta della casa editrice. Sergio non muoveva foglie se non si consultava con Decio Canzio. Poi alla fine decideva lui e Canzio mi appoggiava e diceva guarda questo è un valore in più che noi diamo a Tex, l'elemento giallo. Purtroppo Sergio non amava i gialli, l'unico giallo che leggeva mi disse che era Peter Ceney mi sembra, e cioè con un pessimo gusto perché è veramente un giallo orrendo americano. In poche parole mi scoraggiò dal tingere di giallo Tex. io non avevo il coraggio di ribellarmi, gli sentiretta e smis di farlo e sbagliai perché secondo me continuo a essere convinto che un finale, noi diciamo giallo perché ormai giallo è un termine omnicomprensivo insomma, ma comunque un finale misterioso, la sorpresa finale secondo me va bene in tutti i tipi di storie. Questo per dire che in fondo anche in Tex c'è del giallo, ecco, o c'è stato. Vabbè, ti lascio andare un po' avanti, se no mi si asciuga la bocca. Vuoi parlare un pochino dei disegnatori con cui hai collaborato? Hai incontrato praticamente grazie a Tex e al giornalino tutti i più importanti disegnatori. Con quali sei stato più a tuo agio? Beh, guarda, con quelli bravi. Con quelli bravi mi sono trovato agio con tutti. Quali sono quelli bravi? Quelli bravi erano al giornalino, erano Giovannini, Landolfi, De Luca, Zaniboni, adesso me ne dimenticherò molti. Da Bonelli erano Ticci, Fusco, anche Fusco però non fu accettato bene dai lettori, è Fernando Fusco che ne ha fatti tanti. Perché all'inizio lui faceva un Tex anomalo, cioè non imitava nessuno. Perché Tex, la faccia di Tex l'ha creata Gallep, Gallep, Aurelio Gallepini, però la faccia di Tex in realtà non esiste. Perché Gallepini lo disegnava tutte le volte in maniera diversa, però il suo stile lo rendeva diciamo coerente. L'unica caratteristica è che ogni tanto Tex aveva uno strabismo convergente, non so se avete mai fatto caso, nei disegni di Gallep. Quando Sergio Bonelli si trovò, perché all'inizio bastava Gallep a fare tutto, perché Tex usciva nelle strisoline e lui riusciva a mantenere il ritmo. Tra l'altro ci sono degli aneddoti bellissimi, perché a quel tempo non c'erano tutti gli strumenti che ci sono oggi. Per esempio non c'erano neanche le fotocopiatrici, almeno i disegnatori non ne disponevano. Per cui il ritmo della pubblicazione faceva sì che il povero Gallep da Chiavari era sempre costretto a finire il coso e a spedirlo. Poi non si ricordava quando aveva fatto il saloon, perché ormai l'aveva spedito, non l'aveva fotocopiato e tenuto lì per poi vedere. C'era tutta una serie di equivoci incredibili per dire che tempi erano, come per esempio il fatto che lui non sapeva come fossero fatte le diligenze. Mi racconto a lui che andò a vedere Ombre Rosse con una lampadina qui da minatore, poi un taccuino in mano e si guardò un paio di volte il film e copiava la diligenza dal film. I disegnatori di oggi hanno a disposizione un miliardo di documentazione ma non faranno mai dei disegni come a faceva Gale. Il talento non ha bisogno di supporti, se c'è viene fuori ovunque. Ma una cosa interessante è che tutti i disegnatori amano lavorare con te, perché tu hai molto rispetto ai disegnatori e cerchi di agevolarli. Ad esempio Boselli che hai nominato prima, lui sostiene che i disegnatori sono al servizio dello sceneggiatore ed è un disegnare qualunque cosa, il disegnatore immagini. Mentre tu hai una concezione un po' diversa. Beh, così alla lettera è anche vero, questo resta vero. Bisogna vedere se tu, non è tanto che li vuoi con piacere, ma se vuoi tenere il meglio da loro. Ecco, allora se vuoi tenere il meglio da loro, fai le cose che loro sanno fare meglio. I disegnatori sono tutti bravi, ma non tutti sanno fare bene le stesse cose. Per esempio Ticci, che è forse il più grande di tutti, non sa fare le donne. Quindi dice, no, non mi mettete le donne perché non le so disegnare, ed è vero. Oh, Fusco. Fusco non vuole gli ambienti chiusi. Lui è un disegnatore che ama stare un plein air, cioè disegnare esterni. E quindi tu cosa fai? Gli ambienti molti esterni e pochi. E quindi questo non significa condiscendere il disegnatore. Significa semplicemente voler ottenere il meglio da lui. Ecco, non vedo perché. Io per esempio, scusate, io ho ripreso, dopo aver sospeso di scrivere i text nel 2000, non mi ricordo, 8, 9, non mi ricordo. Sono stato, fino al 2017 non l'ho più scritto. Poi tutta una serie di motivi che è inutile riassumere. Poi ho avuto l'infelice idea di ricominciare. Perché avevo un corrimento, un po' di nostalgia dalla Bonelli che avevo conosciuto. Che era la Bonelli con Sergio Bonelli, padrone, e Decio Canzio, direttore. E io avevo i miei rapporti con loro. E oggi invece cosa ho dovuto fare? Io ero ripreso con Mauro Boselli. Ora, voglio dire, lui per esempio non mi diceva mai a quale disegnatore avrei, per quale disegnatore avrei voluto scrivere. Mi dice, tu scrivila, e poi la do io a chi mi pare. Questo era già una partenza, no? E mi fermo qui. E riprendo il discorso di prima, insomma. Quindi sarebbe come se uno sceneggiatore di cinema facesse fare le parti sbagliate agli attori, no? Butterebbe via il vantaggio di avere un bravo attore. E quindi il motivo è quello. E l'altra cosa, visto per continuare con le differenze con Boselli... No, ma io non è che voglio fare... No, però forse è bene chiarire. Boselli non fa soggetti, mentre tu invece fai... Ma certo, ma questo per due motivi. Uno, perché il disegnatore ha diritto di sapere come va a finire la storia. Perché è chiaro che se io, il famoso agente, falso agente della Pinkerton, non gli avessi detto prima che era il colpevole finale, e lui l'avrebbe fatto in un altro modo. Invece il disegnatore accorto, in quel caso era Letteri, che non era un grandissimo disegnatore western, perché non aveva il segno western. Però ero bravissimo a fare le espressioni dei personaggi, cosa molto importante, cose che non sanno fare i disegnatori d'oggi, che sono bravini in tante cose, ma in quello proprio non le sanno fare. Non tutti, eh? Alcuni le sanno fare. Villa le sa fare, i Cessaro lo sanno fare, e così via. Oddio, ho perso il filo. Stai parlando del fatto di dare il soggetto prima, predisporre per... Ah sì, no, il discorso è questo anche. Quindi, primo, dare al disegnatore la possibilità di capire dove va a finire la storia, per regolarsi, come caratterizzare i personaggi. Due, anche per me, io ho scritto anche 12 storie contemporaneamente negli anni 80, quando ero rimasto solo a scriverle. Tant'è vero che mi sono miscato anche una depressione per eccesso di lavoro dopo, per affaticamento. Comunque, se io non avessi fatto una scaletta molto dettagliata, perché io cosa facevo? Scrivevo 100 pagine per un disegnatore e lì venivano spedite. E quel disegnatore lì, diciamo, era posto per tot mesi, a seconda della sua velocità. Perché una volta, per esempio, Gallet faceva anche 40 tavole al mese. Oggi ci abbiamo disegnatori giovani che ne fanno 7, 8. non si sa perché sono ricchi o perché sono pigri, ricchi di famiglia, non per quello che guadagnano con 7 tavole. E quindi io quando ritornavo a proseguire la storia, se non avessi avuto una scaletta dettagliata mi sarei dovuto andare a rileggere tutto. Insomma, mi sarei trovato male. Invece, trovandomi già la scaletta già fatta. Quindi io non so come faccia a Boselli a mandare 10 pagine alla volta, poi ripetere. Io forse lo so perché lo capisco da come scrive, però è un'altra cosa. Il disegnatore ha diritto di sapere come va a finire la storia per potersi regolare con la carrizzazione dei personaggi. Questa è una legge. Non scritta, ma i bravi sceneggiatori sanno che bisogna fare così. Direi, lasciamo un po' i text per le domande che il pubblico senza altro ne avrà. Parliamo brevemente delle altre cose gialle e quindi soprattutto Nick Ryder... Si è visto che siamo... Ah, non c'è il manifesto. È questo. Visto che siamo al Festival del Sbaglio, già, allora c'è anche Nick Ryder. Allora, quando io ero... Quando negli anni... A metà degli anni Ottanta scrivevano ancora qualche storia al vecchio Bonelli e qualche storia a Sergio. Poi c'ero io. Quindi avevo ancora dei margini di tempo. Mi chiesero di inventare una storia già... Una serie già... E allora io pensai di farla. Se avessi saputo come... Cosa sarebbe successo di lì a poco ovvero che mi sarebbe toccato iscrivere tutti i text a me non l'avrei scritta perché infatti l'ho cominciato e l'ho dovuta abbandonare. A parte il fatto che io non amo molto parlare di Nick Ryder che mi ha dato quasi solo dispiaceri. Mi spiego. Due anni prima dell'uscita di Nick Ryder è uscito Dylan Dog che per due anni aveva avuto vendite buone ma buonine. Poi di colpa è partito a razzo ed è arrivato fino a 600.000 copie. superando anche i text. La casa editrice impazzisce. Da quel momento si pensa solo a Dylan Dog. Quando io scrivo il mio giallo e cerco i disegnatori mi arrivano tutti gli scartini degli altri. Delle altre serie per quelli che Tiziano non voleva. Cacciava via ma gli davano a me. Ora questa cosa addirittura il nome stesso mi tocca cambiarlo in corsa. Io l'avevo chiamato Nick Falcon e per caso in quel momento lì in televisione circolavano degli sceneggiati con quel nome lì Nick Falcon guarda caso no non Nick ma un altro nome però c'era Falcon il cognome. Allora Sergio fa no noi dobbiamo cambiare. E quindi di corsa abbiamo cambiato nome già questo non mandava. Poi c'era il problema della faccia perché il problema del volto del protagonista è importantissimo. Tiziano Sclavi era stato fortunato aveva preso aveva chiamato Claudio Villa cioè gli era stato dato Claudio Villa come costruttore del personaggio lui gli aveva detto vatti a vedere il tal film e fagli la faccia di Rupert Everett e infatti Claudio Villa va là e fa la faccia di Rupert Everett tale e quale e risolve il suo problema. Poi è chiaro che il successo di Landog è strameritato finché l'ha scritto Tiziano Sclavi perché è un fuoriclasse e ha fatto delle belle cose. Da lì in poi insomma invece nel caso mio non sono stato così fortunato di avere l'idea giusta subito e ho dato Claudio Villa anche io delle indicazioni ma un po' non abbastanza precise per cui fatti i bozzetti li abbiamo distribuiti ai vari disegnatori perché si attenessero a quella faccia ma essendo una faccia non ben caratterizzata ci sono un po' così persi anche loro finché finalmente arriva a disegnare una storia Ivo Milazzo Ivo Milazzo è un disegnatore di una bravura incredibile però è un gran lavativo e con la scusa della sintesi disegna sempre più in fretta tira sempre più via però classe ne ha da vendere e quindi qualcosa rimane sempre. Lui infatti azzeccò subito il personaggio perché questo glielo dissi ma lui lo fece gli disse ma insomma fammi un Robert Mitchum giovanile perché questi qui non funzionano quello che c'è adesso lui lo fece non definì molto la faccia perché lui ormai non definiva più le facce però mise sulla strada il giovane Ramella che sulla base degli schizzi fatti da Milazzo riuscì a tirar fuori un personaggio vero insomma la faccia vera del protagonista ma eravamo già avanti con la serie poi io mi ritrovai nell'impossibilità di scrivere tutti i text e tutti i decreti e allora fu necessario trovare un curatore della serie che non fossi io perché non ce l'avrei fatta ahimè finimmo su Renato Queirolo che è una bravissima persona ma è un gestore dei collaboratori quasi peggiore di Boselli che è molto ovvero li bastonava tutti insomma poi venivano da me disperati ma mi ha fatto questo mi ha fatto quello e non so cosa dirvi ce l'ha messo l'editore e quindi io di Nick Ryder non parlo molto l'entiene comunque che cose quale tipo già lo scrivevo io io mi ero fatto pari pari a Ed McBain perché secondo me sia i gialli all'inglese no il Colwood Knight chi è stato quelli gialli dei salotti i gialli artificiosi di Agatha Christie che sarà sarà quello che sarà ma non sono credibili lei fa delle macchiette insomma non era più secondo me non era più giusto oppure gli americani dell'hard boy cioè con gli investigatori privati ancora meno credibili perché scritti bene sì Chandler era un bravo scrittore Ahmed anche però i loro personaggi a parte che Chandler scriveva delle trame che poi non le capiva più neanche lui le faceva tanto complicate che anche il film Il grande sonno nessuno ha mai capito degli attori che lo facevano cos'era successo questo per dire viceversa i gialli che scriveva Ed McBerry erano quelli della polizia i gialli i police procedural ovvero c'aveva il gruppo di agenti con qualche naturalmente con qualcuno che emergeva e faceva i gialli dei gialli realistici che poi naturalmente anche lui non era realistico fino in fondo però addirittura lui arrivava a mettere nei suoi volumi le fotocopie dei documenti della polizia americana e così via io a proposito di questo ho un aneddoto una volta vado a New York con mio figlio e mia moglie insomma dico dai andiamo alla sede della polizia ci facciamo dare un po' di materiale illustrativo così lo forniamo ai disegnatori e andiamo e arriviamo a che era appena finito il pranzo infatti dunque allora io non so l'inglese per fortuna mio figlio lo sa e andiamo là spieghiamo che cosa volevamo dice sì ci guardarono un po' strano dice questi cosa vogliono ci fecero accomodare in un salutino dopo un po' ci arriva ci arriva un sergente nero con un stuzzicalente era ancora lì che masticava insomma appena mangiato e gli spieghiamo cosa volevamo allora lui dice libri sulla polizia non ce n'è dico i cocani non hanno un libro sulla polizia di New York fanno libri su tutto quello non c'era mi sono andato anche in molte librerie effettivamente non c'era niente per le divise per le auto l'unica cosa che mi danno e me la danno proprio fisicamente sono dei gli stand che hanno qui sulla spalla e infatti da un certo punto in poi i genitori cominciano a farli vedere prima non ce n'erano insomma morali tornano via quelle pive nel sacco perché non mi fornì quasi niente ecco questo per dire quindi il segreto qual era che bisognava far girare la squadra in un certo senso avevo ricreato un po' il quartetto di Tex cioè Nick Crayle doveva essere la funzione di Tex Marvin Brown che era il nero che poi anche lì era il periodo che andava di gran moda Eddie Murphy con i suoi gialli e la sua famosa risata solo che i disegnatori non lo sapevano fare mi facevano sempre un negraccio che non era simpatico quindi insomma poi c'era il vecchio tenente che era Carson e poi c'era il giovane Jimmy Gardner davanti al computer che era Keith Wheeler e poi c'erano anche altri ma sostanzialmente era il gruppo perché in Tex era molto importante il gruppo prima non l'ho detto perché era importante il gruppo perché si creava quel senso di come dire di amicizia virile di comunanza di io mi ricordo una frase di Roberto Benigni che disse in un'intervista figlio come invidio quando li vedo tutte e quattro io non so parlare in toscano attorno a un fuoco di bivacco con la tazza di caffè in mano sarà stata una porcheria ma come avrei voluto essere con loro insomma loro davano questa sensazione anche oggi ce ne hanno fatto scomparire tutti Tex agisce da solo oppure con uno oppure con l'altro ma sono scomparsi i batti vecchi con con Carson insomma vabbè oggi è un'altra cosa Tex un altro personaggio quindi tornando a Nick Lider l'obiettivo era di rifare e lì però insomma io ho fatto fin che ho potuto ne ho scritto una cinquantina di numeri ma subito ne ho scritto al numero 10 e 11 cominciamo subito a chiedere l'aiuto a Gino D'Antonio il quale sendo un fior di sceleggiatore capì subito tutto e fece dei magnifici forse anche più belli dei miei o anche senza forze perché era proprio bravo usando il gruppo invece quelli che vennero dopo trovati da Queirolo io mi ricordo un anno io ero andato per fare una cosa uno stelz cioè una scuola di fumetto con Bonfatti nelle Marche e la sera mi ritrovo in albergo con Faraci che doveva fare Tito Faraci che avrebbe dovuto fare tex e allora mia moglie è testimone Faraci aveva due figli uno dei quali io avevo le gambe accovalate uno dei quali mi venne a sedere sulla mia gamba e voleva che io gli facessi su di giù questa gamba allora fai pure su il giugno al figlio di Faraci e intanto gli spiegavo come sarebbe stato opportuno che lui seguisse tutto il gruppo e non solo e invece Faraci mi promise sì 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 d'accordo d'accordo hai ragione poi fece il cavolo suo e faceva vedere solo i due e poi malamente comunque qualche traccia l'ha lasciata perché hanno sentito il bisogno di ripescarlo adesso di Craig è uscito da cinque mesi che dopo essere finito col numero 200 un anno fa adesso l'ha ripreso ma penso che ne faranno solo una miniserie perché adesso alla Bonelli a parte Tex e a parte un po' ancora Mr. No no Mr. No scusate Dylan Dog che pur essendo pur avendo calato molto le tirature ancora vende bene quasi niente ah Giulia va ancora Benino Benino insomma sopravvive quasi nessun personaggio che fanno nuovo funziona dopo un po' lo devono chiudere perché non va solo Tex ormai rimasto allora loro fanno Tex menzile tutto Tex Tex ristampa Tex giovanile Tex grosso Tex piccolo Tex a colori Tex giallo insomma lo stanno cannibalizzando questo povero Tex direi perché si avvicina l'ora della chiusura allora no forse abbiamo parlato di Tex dei gialli che ha fumetti però tu oltre a scrivere fumetti hai anche scritto libri ad esempio questo l'orrendo delitto dell'edicolo Babbini magari se ci parli brevemente delle tue esperienze letterarie con il giallo allora è successo questo io ero partito scrivendo novelle che poi mi fecero per il vitorioso mi fecero fare i fumetti poi alla fine quando chiusi il vitorioso scrissi per due anni racconti per riviste femminili anche romanzetti per riviste femminili insomma a me era rimasta la voglia di scrivere non a fumetti quando ho smesso di scrivere Tex nel 2008 diciamo stanco di scrivere dell'America che era un'America fasulla perché sia quella di Tex sia quella di è un'America vista da un italiano e da un italiano neanche come dire documentato fino allo spasimo mi venne voglia di scrivere io la mia vita io sono nato in Algeria per caso poi ho passato non per caso 15 anni dalla mia vita a Fiumalbo che è qua su sull'Appennino vicino alla Bettone dopodiché sono andato a Roma e da Roma poi a Modena però i 15 anni di Fiumalbo sono quelli che contano tutti gli altri non contano niente quelli che uno in camera nel magazzino della propria nella soffitta in cui accumuli tutti i cerpani che poi restano che li ripiu e quindi mi è venuta voglia di scrivere delle storie ambientate in quel paese non l'ho chiamato Fiumalbo per non litigare con i miei compaesani e tanto è vero che ricordo che il primo il primo volume fu recensito dal resto del Carlino o dalla gazzezza di Modena non mi ricordo uno dei due che fece le locandine sai che fanno le locandine mirate per i posti di belleggiatura aveva scritto un titolo adesso non sarà letterale ma tipo Nizi svela i misteri sessuali del paese ecco allora i paesani credendo che avessi raccontato chissà cosa comprarono il libro rimasero delusi perché non c'era niente che li riguardasse o che riguardasse qualcuno che avevano conosciuto perché ovviamente era un titolo arbitrario che aveva fatto la gazetta quindi ho scritto queste cose che non dovevano essere dei gialli però sono diventate dei gialli perché in me è automatico metterci il finale quindi ci mesi il delitto ci mesi la piccola indagine però nel primo volume era molto più molto più importante la parte erotica si intitolava l'epidemia in romanzo si intitola ancora l'epidemia qui non c'è l'epidemia cos'era non era non era il covid-19 era il fatto che delle donne del paese improvvisamente diventavano vogliosissime diventavano sfrenate e provavano dei grandi sensi di colpa perché molti erano donette di paese correvano a confessarsi dal parroco e dicevano non so cosa mi succede ma insomma è questo allora c'era da capire che cosa avesse fatto scoppiare questa epidemia però siccome c'erano diversi personaggi diverse storielline che andavano avanti insieme c'era anche quella del delitto e quindi dell'indagine e quindi della scoperta sia del delitto poi alla fine sia del perché era scoppiata l'epidemia e questo era il primo il secondo che lì c'è è il federale di Borgotto a proposito dammelo che faccio vedere la copertina allora in questa copertina si vede non so se riuscite a vederla in siluetta nera si vede un federale che alza il braccio per salutare fa il saluto fascista questa cosa è presa esattamente dal film di Tognazzi il federale siccome il disegnatore non riusciva a fare un federale che mi piacesse gli dissi ma senti ma fai una cosa vanti a vedere il manifesto che lo trovi su internet del film di Tognazzi poi tu lo fai completamente oscuro lasci fuori sui bottoni dorati lo stema la pilotto e dietro c'è il paesino allora cos'è successo quando l'editore a moda le espone questo libro arriva addosso una donna gli fa ma non dovete fare queste cose perché io era la figlia di qualche partigiano che era morto aveva scambiato questo per un libro fascista questo è molto giallo e lo suggerisco perché effettivamente è giallo oltre a essere anche altre cose però perché a me piaceva sempre mettere una cornice paesana attorno e l'ultimo addirittura è ambientato non più a a Borgo Torre ma a quello che sarebbe il San Marcello Pistoiese dell'Emilia cioè a Pavullo nel Fregnano che è uno cittadino ormai e il vicolo Babbini in cui avviene l'orrendo delitto cioè viene fatto trovare dentro di sacchi un cadavere fatto a pezzi esiste davvero è un è un bruttissimo vicolo che collega due strade una più alta una più bassa e fatto a gradoni che era diventato un pisciatoio pubblico perché non era mai ben illuminato tanto è vero che avevano dovuto mettere i cancelli da chiudere la sera perché se no diventava dicono che siamo in ritardo dopo il film la gente andava dopo il libro la gente andava a farsi i selfie nel vicolo Babbini allora gli abitanti del vicolo Babbini che a quel punto sono stati tirati in ballo hanno cominciato a mettere fiori dappertutto insomma hanno trasformato il vicolo che non ha fine c'è qualcuno che ha qualche domanda per tali in extremi se avete qualche domanda qualche curiosità ve la tolgo la curiosità è questa lei giustamente ha detto prima che a Nick Ryder gli avevano riservato i disegnatori meno o meno bravi e quelli più bravi erano su Tex e su Dylan Dog ecco però stranamente uno dei più grandi disegnatori italiani Sergio Toppi ha disegnato a mia memoria due episodi di Nick Ryder volevo sapere se ne ha avuto montati e se ci raccontava qualcosa il motivo è questo guardi Sergio Toppi in quel momento lì non aveva niente da fare ecco quindi andò da Bonelli a dirgli questo e gli disse ti faccio fare un Nick Ryder no gli disse cosa vorresti fare dei miei altri gli disse Nick Ryder perché me lo sento più nelle mie corde lo fece era un Toppi ormai già un po' tramontato non lo fece benissimo dico soltanto di una cosa che Carlo Inizi esagera perché i disegnatori di nick rider ce n'erano goran parlof bravi bravo appena fatti abili fregarono però sì attenzione ero un esordente ero un esordente ma guarda attenzione arrivarono molto dopo arrivavano molto dopo all'inizio all'inizio avevo caramuta avevo trigo avevo insomma no direi che dobbiamo chiudere perché devi fare qualche autografo grazie di essere stati con noi ringraziamo la biblioteca che ci ha ospitato anche quest'anno grazie a carlo nizzi e grazie a roberto guarino che ci ha aiutato e con questo chiudiamo il dodicesimo festival del giallo l'appuntamento per il prossimo anno